La questione di giustizia e di equità è di pari opportunità perché chi amministra, chi ha una responsabilità istituzionale ovviamente deve dare delle risposte. Le risposte non si danno attraverso le sigle ma si danno attraverso i bisogni. E allora le distrizioni delle città si fanno in base agli abitanti, in base all'estensione dei territori, in base ai disagi e alle esigenze che ci sono. C'era Don Milani che diceva che non c'è peggior cosa di distribuire in parti uguali tra diversi. E qui è la stessa cosa. Purtroppo sia a livello nazionale che anche a livello regionale spesso si usa una semplificazione riservando bandi e opportunità alle città a capoluogo. Allora esiste purtroppo tutta una serie di situazioni di città, per detto lo specifico Fano, terza città delle Marche, non è città a capoluogo e si trova spesso e volentieri esclusa da opportunità da finanziamenti oppure ridotti. Oggi mi sono arrabbiato per un'altra situazione che è quella dei progetti ITI, che è una buona cosa. E qui devo dire che la Regione ha scelto anche un percorso, quello di non andare a gara ma di andare a continuità. Però ha fatto una scelta di riservare cinque progetti per le cinque città a capoluogo. Nello specifico Pesaro inserendo anche Fano perché per nostro merito in passato, eravamo stati esclusi anche in passato, altrimenti si siamo reinseriti attraverso un emendamento del Consiglio regionale Pesaro-Fano e quindi ha avuto continuità. Non è una questione tra Pesaro e Fano perché qui veniamo penalizzati in questo caso entrambi. Allora bisogna tener conto anche in questa proprietà dei bisogni dei territori. Fano e Pesaro insieme fanno quasi oltre 160.000 abitanti. Se pensate che ci sono alcune città a capoluogo che hanno la metà degli abitanti di Fano, non possono avere tutte le stesse risorse. Il rischio è che poi ci tocca litigare tra Fano e Pesaro per spartirci una fetta di pane. Allora c'è un'esigenza, quella di guardare i territori, le risorse che occorrono e un territorio più ampio, con più agitanti, di avere di più rispetto ad un altro. Poi c'è il tema solito che ora di superarlo è quello che le scelte non devono essere fatte esclusivamente per le città a capoluogo come criterio. Perché la città a capoluogo se ragionasse su un progetto territoriale ha un senso e quello che facciano le province che oggi purtroppo non ci sono più e vanno recuperate. Le città a capoluogo partecipano come propria città, per i propri interessi giustamente. Ma ci sono altre città e come Fano, ma ce ne sono altre in altre regioni, purtroppo siamo numericamente poche senza rappresentanza. Quindi da qui un appello anche ai parlamentari, ai nostri consiglieri regionali. Se ci siete battete un colpo e cerchiamo di fare cose giuste, non privilegi, giuste in base ai bisogni.